Bella raga e bentornati sul canale di Pompelmo, siamo in compagnia del dottor Neo Cortex e niente, spolizzate, spolizzate, go go, perché questo è l'ultimo livello di Crash Bandicoot 1 e ovviamente nel prossimo episodio, anzi nel prossimo video, vedrete se andrò avanti o meno ma comunque la decisione è stata già presa perché mi avete supportato la grandissima non come fa sto dottor Neo Cortex o Neo Cortex o chiamatelo come cavolo volete perché mi sta facendo perdere la testa, insomma, con tutti questi livelli qua e questi giochini, non l'avevo vista, questi giochini qua dentro questi livelli qua da pazzo mi sta facendo diventare pazzo anche a me l'elettro challenge, eh, la prova, lampante, maledizione non capito niente ragazzi, scusate, non si trova roba che arriva, questo non lo devo prendere eh, ahah, ridi, ridi, io rido di più, io do il paccio non lo devo prendere, oh, ah, ah, sì, sì, l'ho preso, lo ho preso, ah, ah eh, oh, 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 no, ha preso, oh, 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 via non ho più, non ho più di vite non ho più di vite questo, quello, tu, sì, 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 ancora una vita, ancora una vita ragazzi sono in casettissimo sì, 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 sì bene ragazzi io vi lascio il filmato finale in compagnia di crash bandico e noi ci vediamo il prossimo video effetto speciale supera e guardate effetto speciale va che bello è il filmato speciale niente adesso vi lascio in compagnia dei titoli finali e dei simpatici sviluppatori che mi hanno portato alla partenza di questo gioco noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao